Musica In occasione della tradizionale festa del prosciutto veneto berico organio d'op che ha visto occorrere oltre 100.000 visitatori nella città murata di Montagnana il salumificio Brianza ha proposto una cena con degustazione del dolce di Montagnana e di formaggi e dolci tipici del territorio Il salumificio Brianza è specializzato nella produzione del pregiato prosciutto veneto e segue il metodo certificato del marchio DOP del Consorzio di Tutela Erano gli anni 60 quando Walter Brianza apriva Montagnana il suo punto vendita per il commercio di salumi e carni suine Da allora l'impegno e la dedizione di tutta la famiglia a questa attività hanno trasformato il piccolo laboratorio in un moderno salumificio riconosciuto ed apprezzato per la qualità e la prelibatezza dei salumi preparati secondo i criteri della tradizione Il salumificio Brianza ora guidato da Piero De Battisti opera ancora artigianalmente come un tempo rifilando e salando a mano con sale dolce fornito da una salina di fiducia le cosce di suino poi trattandole, essiccandole e lasciandole stagionare Il passaggio finale dopo due anni di lavorazione avviene in apposite stanze che ricreano il microclima delle cantine di una volta grazie alle pareti mattone che filtrano in modo naturale gli scambi d'aria che arriva dai vicini colli e che rendono unico questo prodotto La stagionatura varia, quella minima è di 12 mesi ma la media si aggira attorno ai 20-24 mesi La legatura deve essere a mezza corda passata con un foro praticato nella parte superiore del gambo Il prosciutto viene rifinito con un rivestimento protettivo della parte magra scoperta attraverso un impasto di strutto e farina di riso È una storia che è legata alle tradizioni la nostra azienda è proiettata al futuro non trascurando la nostra storia che è il fulcro principale per far risaltare questa eccellenza del nostro territorio Dobbiamo ringraziare il nonno che ha cominciato il progetto 60 anni fa e papà e la mamma che l'hanno proseguito e grazie penso anche a noi che stiamo continuando a portare avanti il nome e portarlo alto Ogni anno c'è sempre un numero maggiore di prosciutti e naturalmente cerchiamo di farli il meglio possibile Vedere qui riunite tutta questa gente per questa serata dedicata alla nostra azienda ci riempio veramente di orgoglio solo vuol dire che il lavoro che abbiamo seminato stiamo rappresentando i nostri frutti buoni Ci mettiamo tutto quanto l'amore è possibile per fare il prosciutto di Montagnana I nostri genitori ci hanno insegnato ad essere uniti andare d'accordo bene e male e soprattutto andare sempre avanti con tanto amore portare avanti questo lavoro che loro hanno costruito tanti anni fa Grazie Vigiliano la Vrede Vigiliano la Vrede Grazie 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 Grazie.